Oggi vediamo quello che è stato il mio primo smartphone, l'iMate Key Jam commercializzato anche come QTEC 9100 questa è ancora la sua confezione, che conservo ancora, l'ho preso dalla cantina comprato ormai nel lontano agosto del 2006 ho ancora lo scontrino originale, ho sbagliato lato ecco qua, qui abbiamo il Deplian, credo del club iMate mi ero anche registrato se non sbaglio scontrino originale, 634 euro e 50 centesimi il 22 di agosto del 2006 il cellulare è stato annunciato settembre 2005 io l'ho comprato nell'agosto del 2006 ho aggiunto anche una pellicolina da 5,50 euro mi ricordo 634 euro fotocopia per la garanzia e tutto custodia che ho comprato extra successivamente rigorosamente non originale mezza distrutta cd con su driver e quant'altro per il funzionamento poi abbiamo la batteria che ho scoperto purtroppo essere leggermente bombata passandoci su quelle dita si sente, poi comunque alla prova classica che si fa in questi casi che è farla girare, vedete come gira? quando una batteria gira così vuol dire che è da sostituire, non va più bene se non ve ne accorgete al tatto una batteria che è ancora in buone condizioni non gira in questa maniera non riesce a fare tutti questi giri che vedete, si ferma subito peccato ho cercato di tenerla anche in un certo modo però non c'è stato verso i vari cavetti questi mi pare di non averli neanche mai usati quindi il cavo per la carica che era di tipo mini usb adesso si usa veramente poco adesso c'è lo standard del micro per fortuna e il telefono vero e proprio adesso spostiamo un po' andiamo a vedere il telefono vero e proprio eccolo qua display da 2,8 pollici lo leggo da internet fotocamera da 1,3 megapixel col flash e uno specchio che serve per farsi i selfie quando ancora non andavano di moda il flash 64 MB di RAM con processore OMAP 850 a 195 MHz se non mi sbaglio con un software possibile anche overclockarlo io l'avevo fatto a 233 qualcosa del genere batteria da 1250 mAh e vediamo adesso se funziona ancora sportellino dietro per la batteria notare lo spessore più piccolo rispetto ai cellulari di oggi però più spesso allora batteria inseriamo così chiudiamo lo sportello qui era anche presente la la chicca era il pennino allungabile per non sporcare lo schermo lo schermo è di tipo il display è di tipo resistivo neanche capacitivo quindi bisogna proprio fisicamente premere no? per selezionare e il display non so se si capisce qui dal video rientra rispetto al alla struttura del telefono non è a raso come quelli che fanno adesso è leggermente rientrante richiudiamo temporaneamente questo lo rimettiamo a posto tasto per scattare le fotografie senza dover andare dentro nel menu quindi cioè richiamando dal menu la macchina fotografica ma scattandola come fosse una macchina fotografica e tastiera QWERTY ecco questa era la caratteristica che mi aveva che mi aveva convinto su questo apparecchio e ai tempi era non ce ne sono stati tantissimi che hanno avuto questa caratteristica il fatto di poter avere una tastiera vera una tastiera QWERTY praticamente completa e nascondibile nel senso che diventava più piccolo chiudendolo accendiamo il tasto di accensione è qui vediamo se carica il sistema operativo no è morta la batteria dal tutto ah no pian pianino arriva questa è una versione del sistema operativo taroccata rispetto all'originale perché un mio amico che ne aveva uno uguale aveva già fatto questa modifica e io negli ultimi periodi ho detto guarda mettimi sulla versione più nuova del sistema operativo non perché io non fossi in grado di farlo ma visto che lui aveva già fatto questo tipo di lavoro mi ha evitato di mettermi lì a capire come come si poteva fare infatti questo qui non è l'originale col quale veniva fornito il telefono l'originale era la 6.5 che era la prima versione di sistema operativo Windows Mobile che consentiva di non perdere i dati una volta che si spegneva il telefono cioè fondamentalmente succedeva fino alle versioni precedenti che se uno spegneva il telefono staccava la batteria perdeva i dati che aveva non salvati e questa cosa qui era veramente impensabile nel senso quando io ho letto di questa caratteristica ho detto aspetto a comprarlo quando poi è uscita fuori questa versione che era la 6.5 se non ricordo male e quando è uscita fuori questa versione qui ho detto ok adesso se ne può comprare uno purtroppo ovviamente non c'era ancora la tecnologia del GPS integrato quindi questo apparecchio qui non ce l'ha il GPS integrato non ce l'aveva e non era neanche UMTS è solamente GPRS wifi bluetooth eccetera ma non UMTS quindi era veramente limitato ma teniamo presente che ai tempi non c'erano le tariffe che ci sono adesso per navigare su internet si parla del 2006 il ricevitore GPS l'ho comprato a parte ho preso un Olux 230 qualcosa se ricordo bene ne l'avevo pagato 75 euro seerstar 3 e avevo installato il tomtom ma anche lì bisognava non c'è un play store ovviamente qui noi adesso siamo abituati veramente bene e bisognava scaricare i programmi da qualche sitarello craccare il programma trovare il codice per sbloccarlo poi il programma andava non andava non si capiva e vi lascio immaginare che razza di calvario open office mobile calendario contatti internet explorer telefono vedete l'interfaccia telefonica me la ricordo bene ok menu si torna indietro così se non sbaglio no c'era il tasto home perché ci sono dei tasti fisici parecchi ne mettevano su molti di più telefono oggi office mobile pin backup ha qualche programma che c'era già su perché giravano un sacco di rom cucinate ai tempi quindi uno poteva mettersi su quello che quello che gli pareva elenco contatti spero di non vedere no non è dentro niente perché è stato proprio formatato completamente prima di metterlo prima di archiviarlo metterlo via l'ho proprio l'ho formatato completamente vediamo se mi ricordo allora andiamo dentro nel sistema qui è praticamente una versione di windows adattata a un dispositivo mobile qui android non esisteva ancora io questo qui l'ho ottenuto fino al 2010 sicché circa 4 anni un po' meno quando poi sono passato l'htc desire e con android mi è cambiato tutto diciamo questo qui addirittura c'ha guardate dove l'hanno messa la mini la mini sd non la micro sd la mini sd che adesso non si usa più per metterci su programmi questa è quella finta che ah no 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 scusate è quella vera quella vera teneva 2 giga la mini sd che adesso non si usa più con accesso direttamente da qua ok adesso vediamo la macchina fotografica premo sul tasto dovrebbe partire con i suoi tempi ovviamente la risoluzione 1,3 megapixel e il flash che adesso vediamo se mi ricordo come si fa ad attivarlo fa venire da ridere comparato con qualsiasi altro provate a fare la stessa cosa con un cellulare al giorno d'oggi e accecate la telecamera questa è veramente una una differenza incredibile se adesso lo devo confrontare ad esempio col mio telefono facciamo una prova già che ci siamo ah no scusate ho sbagliato procedura vi faccio vedere cosa vuol dire comparato con un s4 la differenza è la differenza è notevole soprattutto il buio quando con un telefono riuscite a vedere quello che dovete vedere e con l'altro non vedete praticamente niente cioè vedete io illumino uno con l'altro e la differenza è questa qua ecco qui allora spegniamo il flash spento il flash chiudiamo anche la macchina fotografica ha 4 impostazioni in croce andiamo a vedere il sistema impostazioni sistema vedete la velocità windows update info di sistema andiamo a dare un'occhiata alle caratteristiche vedete windows mobile 6 professional sistema operativo built 2007 questo programma è tutelato l'omap ecco 195 megahertz omap 8 e 50 195 megahertz memoria 51 mega copyright tutte le informazioni esattamente una versione miniatura di windows fondamentalmente con tutte le con tutte le complicazioni del caso vedete qui c'è la schermata bluetooth access lines che direte eccetera con questo qui io navigavo su internet solo in wifi perché era impensabile collegarsi con le tariffe che c'erano con il gprs e però era carino perché aveva anche la porta infrarossi con la quale era possibile installare il software del telecomando della televisione per dire se imposta la marca e soprattutto in qualche locale pubblico mi è capitato di dover cambiare canale perché magari non mi interessava quello che facevano vedere alzare il volume eccetera eccetera è possibile farlo tramite la porta infrarossi poi alcuni tasti personalizzabili di richiamo rapido per la mail per internet explorer per tutte queste cose qua tipo io premo qua in teoria dovrebbe aprirmi il browser eccolo qui la mail anche premendo qua dovrebbe darmi la mail messaggi vedete la velocità di esecuzione sms mms windows live nuovo accesso di posta elettronica così si tornava indietro poi abbiamo anche questo calendario se non sbaglio ok il calendario menu menu del calendario si chiudeva così volendo era possibile usare anche le unghie però diventa un po' un problema perché vedete che lo schermo rientra lo schermo rientra e poi c'era il pennino in dotazione con uno che ti davano insieme di riserva se ne perdevi uno poi c'erano tutti quelli che te lo vendevano su internet come ricambio perché era la prima roba che perdevi a me non è mai capitato per fortuna però calcolatrice vedete l'apertura della calcolatrice i tempi era così si parla del 2006 era era costoso io sul lavoro ho stato il primo dove lavoro io a presentarmi con uno smartphone tutti ridevano di me adesso ce l'hanno tutti e spendono anche più soldi di quelli che ho speso io in proporzione a pensarci adesso Total Commander faceva parte di questo pacchetto è il file manager diciamo faceva parte di questo pacchetto che mi ha installato questo mio amico normalmente mi pare che non fosse non fosse contemplato e poi comunque installare i programmi era veramente un disastro trasferire file cose di questo tipo era veramente da mettersi le mani nei capelli vediamo programmi allora calcolatrice camera vediamo se c'è qualcosa interessante da vedere da mostrare Windows Live no qui non c'è installato praticamente niente perché c'era l'Active Sync ecco certo questo non lo ricordo era per sincronizzare quando poi lo si collegava al PC si potevano sincronizzare i dati in maniera da non perdere niente diciamo che rispetto al cellulare che avevo prima che era un Nokia molto limitato e questo qui era tutta un'altra cosa ah ci abbiamo anche i giochi solitario e bubble breaker ah bubble breaker esatto si sono quelli quei giochi classici di Windows che che lasciano il tempo che trovano che va bene vedete solitario bisogna proprio premere questa è la differenza bisogna proprio premere su questo tipo di display qui per avere la il funzionamento riesco a farlo anche con le dita in realtà però è più comodo col pennino ecco adesso proviamo la scrittura vediamo un attimo se abbiamo il word sotto programmi dov'è che era magari era anche qua office mobile eccolo qui powerpoint one note mobile excel mobile apriamo excel proviamo un attimo vediamo rivanghiamo queste cose vehicle mileage nuovo facciamo nuovo ok qui abbiamo l'excel più o meno come quello disponibile su un sistema su un pc dotato di windows chiudiamo excel mobile chiudiamo anche questa apriamo word mobile ecco qua facciamo possiamo fare nuovo e carica la pagina nuova ok adesso mettiamo in modalità querti scriviamo ciao come va ciao vedete che c'è anche un suggeritore tra l'altro di vedi ciao ciao ciascun ciascuna ciascuno io scelgo ciao con le frecce seleziono qual è la parola che mi interessa premo invio e prende ciao come me lo suggerisce no era quello che si ciao come ok come stai me lo suggerisce addirittura il sistema io gli do ok ciao come stai era molto veloce mi ricordo che c'era la gente quando lo utilizzavo in questa modalità qua e c'era la gente che mi guardava perché ovviamente era una cosa nel 2006 non era una cosa che vedevi tutti i giorni e anche la struttura è fatta bene c'è una certa rigidità non è così delicato come si può pensare è molto lento perché ovviamente non c'è il giroscopio qui che rileva che tu l'hai girato come succede nei telefoni a giorno d'oggi bisogna proprio aprire la tastiera qwerty e vedere che viene effettuato il cambio altrimenti se io lo raddrizzo vedete per lui io sto lavorando in modalità scrittura con tastiera qwerty non sto lavorando in modalità verticale per dirgli ok sono in modalità verticale bisognava richiudere la tastiera e così lui veniva a saperlo ok vedete anche perché solo per chiudere lo salva in automatico si ha salvato ciao come sta in automatico e ok 12 e 11 vuol dire che sono 11 minuti poi c'era anche la gestione della batteria dava la percentuale la batteria durava un sacco anche perché non eri mai connesso a internet e se lo facevi tramite wifi lo facevi per poco poi anche le connessioni in casa erano poco diffuse si andava in giro a cercare le reti libere quando si era in giro magari capitava la rete libera allora si poteva navigare tutte le impostazioni del caso spegniamo adesso vediamo un attimo nella custodia che avevo preso questa qua questa qui l'avevo presa a parte non originale lo mettevo qui e ho dovuto fargli un buco qui con la macchinetta per fare i buchi quella che si usa anche per le cinture perché altrimenti non sentivo non sentivo la suoneria perché questo qui la copriva completamente poi questo qua lo attaccavo alla cintura c'è anche la sicura qui guardate potevo anche mettere la cintura qui chiudere questa prima questa prima chiusura e poi avevo praticamente era una sicurezza in più per evitare che uno magari me lo potesse me lo potesse fregare e poi ho fatto un altro buco dall'altra parte l'avevo fatto simmetrico per poter sentire i due altoparlanti quando lo indossavo sotto la maglia in estate soprattutto in estate c'era mia mamma che mi diceva sembra che tu abbia qualche problema quelle persone che hanno quelle patologie particolari per le quali devono portare quegli apparecchi quei dispositivi medici che non saprei dire perché non sono del settore che devono avere non so l'ossigeno l'insulina quelle cose lì insomma ecco mi sembra che tu sia uno di quelli perché effettivamente sono magro e una cosa del genere sborda fa vedere è stato veramente un disastro insomma a parte l'inverno che magari lo mettevo nella tasca della giacca e spariva ma se guardate lo spessore lo confrontiamo con con l'S4 cioè lo spessore è cambiato tantissimo lo tiro fuori il display è aumentato leggermente negli anni adesso si parla di phablet è tutto è tutto così e soprattutto lo spessore è cambiato al di là del fatto che il mio aveva la tastiera QWERTY e anche quelli che non ce l'avevano non erano tanto più sottili di questo ecco questo è quello che è cambiato diciamo e anche il peso adesso magari prendo una bilancia eccoci qua con la bilancia abbiamo il Key Jam che pesa 168 grammi mentre pensate un po' l'S4 con questa leggerissima custodia 167 grammi stesso peso però due forme completamente diverse